buongiorno a tutti amati con oggi oggi partiamo subito a cannone mostrandovi sempre l'immagine della registrazione video della IMO Q2 la telecamera che vediamo registrata oggi guardate quanto è ampio il grand'angolo è veramente davvero tanto tanto ampio non riesco neanche ad abbracciare tutto il campo di visione mi avvicino un po' per cercare di farvi capire un po' la qualità di immagine e ora mi allontano un po' anche per farvi vedere magari come registra in condizioni di movimento e anche soprattutto per farvi cercare di capire come registra anche l'audio anche se non siamo magari troppo troppo vicino e questa invece la registrazione in condizioni di ambiente totalmente buio quello che vedete alla mia destra che sembra un faro in realtà è un led cosa ci posso fare vi faccio vedere anche qua diciamo com'è il risultato della visione di infrarosso eccola qui la nostra Q2 di cui abbiamo appena visto l'unboxing cosa posso segnalare a livello costruttivo innanzitutto nella parte sul retro sulla sinistra c'è la micro sd per poter registrare i nostri alert e poi lo speaker integrato che ci permette di avviare la comunicazione a due vie cosa che ho trovato veramente funzionale molto pratica ad utilizzare dall'app basta premere una volta un pulsante per iniziare a comunicare a due vie appunto l'audio si sente discretamente bene non come altre volte con altre telecamere che abbiamo visto dove l'audio che arrivava dallo speaker era veramente al minimo no in questo caso si sente discretamente bene altre cose interessanti a livello costruttivo nella scatola abbiamo visto che c'è presente questa placca di metallo la cosa però forse ancora più interessante è il fatto che il magnete sta in questa base non è questa che è magnetizzata è invece la placchetta questa qua di appoggio della telecamera questo cosa vuol dire che se io devo andare a fissarla in un punto dove magari ho una parete metallica non mi servirà più questa ma mi basta semplicemente mandare in appoggio la mia telecamerina cosa una soluzione che ho trovato decisamente interessante a livello di qualità audio video beh l'audio abbiamo detto che più o meno è buono si sente bene si sentono i rumori a livello di qualità video invece è una 1080p quindi full hd diciamo che è una telecamera normale non brilla per definizione ma si vede comunque decisamente bene in particolar modo con l'infrarosso attivo io sulle telecamere mi spiace ma tendo sempre a tenere l'infrarosso attivo perché migliora di molto la nitidezza dell'immagine questo è un pochino un handicap di queste telecamere di iMu perché a meno che io mi sia perso qualche cosa e non l'ho notato ma dalle impostazioni non c'è la possibilità di andare a attivare o disattivare gli infrarossi questa cosa l'ho cercata e ricercata e vale per tutte le telecamere quindi non solo per la Q2 ma anche per esempio per la Ranger 2 e questa impostazione purtroppo non l'ho trovata questa è l'interfaccia diciamo di base vi segnalo che c'è anche la possibilità di scaricare un software per Windows che ho trovato anche quello molto ben fatto e questo vi serve magari se avete un sistema multitelecamera che volete avere sempre sotto controllo sul display del vostro computer c'è un pochino più di delay rispetto a quello che è l'app però comunque si vede discretamente bene dicevo questo è l'interfaccia di base per quanto riguarda qualsiasi telecamera che andiamo ad inserire nella nostra app di iMu abbiamo quindi la possibilità di effettuare uno screen abbiamo la possibilità di parlare abbiamo la possibilità di registrare un video quello che ho fatto io per mostrarvi diciamo l'intro con appunto il sample delle immagini di come si vede e poi abbiamo altri pulsanti qua possiamo mandare la telecamera in pausa possiamo switchare tra HD e qualità standard possiamo attivare lo speaker in modo da sentire quello che avviene nell'ambiente possiamo ovviamente andare a tutto schermo cosa che avviene tranquillamente anche ruotando il telefonino torniamo come eravamo prima e poi altra funzione interessante c'è questo pulsante che ci permette di andare ad inserire anche le altre telecamere altre telecamere che noi abbiamo inserito nell'app di iMu qua adesso la Q2 non va in riproduzione perché probabilmente è stato abilitato no perché non vanno nessuna delle due ok ok non so qualche errore di caricamento questa cosa l'ho trovata interessante e se non sbaglio questa cosa funziona una volta che io le impas... no mi svegliavo pensavo che rimanessero in memoria invece a quanto pare no proviamo ad andare a vedere sulla Ranger 1 che qua sono sicuro di averle messe in passato no probabilmente ogni volta si resetta e non credo che ci sia la possibilità di salvarla questa cosa la sto apprendendo con voi ora peccato allora torniamo su quella che era la Q2 una cosa che non vi ho fatto vedere qua in alto vedete che c'è l'icona del cloud e i puntini che ci fanno accedere a questa schermata da qui ho l'accesso alla scheda di memoria oppure il remind chi mi ha inviato la telecamera una cosa interessante di questa telecamera che però è un po' limitata è il fatto di avere la human detection ovvero riesce a capire quando c'è un umano nell'ambiente e in quel caso avvia diciamo la registrazione dell'alert se è impostato ovviamente questa cosa sicuramente è interessante perché evita i fassi positivi quindi fassi allarme è un pochino più interessante sulla ranger 2 che vedremo poi perché in quel caso dato che la telecamera può ruotare allora segue anche il soggetto l'ho trovata veramente ben fatta la ranger 2 andiamo però a vedere quali sono le impostazioni diciamo della della telecamera abbiamo quindi l'immagine con diciamo le impostazioni di base come nome del canale nome del dispositivo e altre cose che ci interessano relativamente le funzioni ci rimanda semplicemente una pagina internet che ci spiega un po' quelle che sono le funzioni abbiamo la versione del prodotto notifiche che da qua è possibile abilitare le notifiche sul cellulare in questo caso sono disattivate perché altrimenti continuerebbe ad arrivarmi la notifica oppure è possibile mandare il dispositivo offline in modo che diciamo se vogliamo un po' di privacy possiamo farlo da qua abbiamo poi le impostazioni del braccio ci sono alcune traduzioni che secondo me sono fatte un po' malino avrei preferito qualcosina di meglio impostazione del braccio sostanzialmente è quello che rileva la forma umana quello che diciamo si occupa della rilevazione del soggetto e da qui è possibile impostare il periodo di funzionamento del braccio o quello di quello che è il rilevamento io questo ad esempio non sono ancora riuscito a farlo funzionare farò un aggiornamento qualora riuscirò a capire effettivamente come va impostato perché è una cosa a cui ci tengo e perché soprattutto adesso sto dicendo che non funziona quindi se dopo scopro che invece funziona ci potrei rimanere male però di fatto io adesso ho impostato 9.30.18 come periodo di attività lo vedete qua la zona arancione è quella in cui dovrebbe essere attivo però di fatto mi manda le notifiche anche quando sono al di fuori di questa sezione non ci sono altre zone, altri punti dell'app da cui settare degli intervalli e quindi ritengo che sia così e basta questa è la sensibilità del rilevamento le impostazioni del rilevamento ecco guardate questa questa è la classica griglia dalla quale io posso andare a dirgli quali zone deve monitorare e quale no e guardate come è veramente molto molto fitta questa griglia è decisamente buono se qualcuno vuole fare un lavoro da certosino poi abbiamo l'allarme di anomalia audio questa cosa è una sorta di baby monitor per chi è interessato o sostanzialmente rileva appunto quello che può essere un'anomalia audio come il pianto di un bambino o qualche altro tipo di anomalia audio e ci manda un alert impostazione audio allarme invece questo nel momento in cui faccio collega allarme telecamera e lo attivo è come se la telecamera avesse integrata una sorta di sirena questa è la sirena onestamente non ne trovo molto il senso nel senso che comunque essendo un dispositivo indoor la sirena rimarrà dato che comunque non è un suono potentissimo rimarrà interno all'ambiente e quindi secondo me se c'è una persona non desiderata non si fa altro che andare a avvisare la persona che è stata sgamata non so quanto sia però magari c'è qualche altro tipo di utilizzo che ora non mi viene in mente magari anche solo per avvisare che qualcuno è entrato in un determinato ambiente non lo so qua dovete dirmi un po voi c'è poi la possibilità di attivare il cloud oppure come abbiamo visto la memoria di archiviazione che vedete in questo momento è già abbastanza piena perché comunque lei registra più o meno sempre il cloud è l'unico punto debole che avevo già segnalato anche con la ranger normale è il fatto che è leggermente costoso se comparato a un'altra soluzione ormai dovreste sapere quella che ho adottato io che è quella di link perché appunto è molto vantaggioso il suo cloud qua il prezzo che viene indicato è a telecamera quindi se io vado a diciamo inserire più telecamera all'interno del mio spazio diventa un pochino costoso non è costosissimo nel senso che comunque ci sono altre offerte che sono sicuramente ancora più costose però comunque si tratta di un costo medio abbastanza mediamente elevato per singola telecamera diciamolo così è possibile poi andare a diciamo abilitare una crittografia non l'ho ancora provata onestamente perché non so se nel momento in cui vado ad attivarla mi chiede poi la password ogni volta che vado a come si dice ad accedervi magari lo farò con la Q2 e vi saprò dire e poi c'è la possibilità di condividere il dispositivo questa è una cosa interessante se abbiamo diciamo più cellulari che hanno necessità di accedere alla telecamera allora l'altro cellulare deve crearsi l'account e poi io da qui posso andare a condividerlo non vi conviene utilizzare lo stesso account perché? perché io ogni volta che accedo da un altro smartphone ad esempio mi butta fuori su quello che avevo visto precedentemente quindi c'è un problema di login e logout qualora utilizzate lo stesso smartphone questa è sostanzialmente la recensione di questa iMu Q2 che è sostanzialmente un buon prodotto andiamo a vedere quanto quanto costa almeno lo vediamo in tempo reale vediamola un po' iMu Q2 proviamo a cercarla così eccola qua 45,99 diciamo che iMu si contraddistingue un po' anche per i suoi prezzi vedete anche la Ranger 2 54,99 non sono prezzi elevati per un dispositivo che comunque funziona decisamente ah una cosa che non vi ho segnalato è che comunque scalda un filino nella parte posteriore però diciamo è un problema relativo nel senso che tanto non dobbiamo andare a prenderlo in mano micro usb per l'alimentazione quindi un alimentatore con micro usb e un cavo discretamente lungo giusto per andare a completare un po' quelle che sono le informazioni tecniche dicevo il livello di prezzo è comunque 45 euro un prezzo abbastanza buono per una telecamera full hd con la possibilità di parlare con l'audio due vie e soprattutto con la Human Detection per quanto riguarda la Human Detection c'è appunto questa funzione ma non c'è la possibilità di diciamo andare a salvare dei volti in modo tale che se rileva un volto amico allora non si attiva questa beh è una funzione che è presente soltanto nelle telecamere molto molto più costose diciamo che questa Q2 mi è piaciuta mi è piaciuto perché comunque funziona bene ha un grand'angolo veramente molto molto buono e non ho riscontrato particolari difetti a livello tecnico se non quelli imposti un po' dal software che spero vadano ad affinare in quelle che sono le piccole incertezze le piccole mancanze quella forse più importante è il fatto di non poter switchare in automatico l'infrarosso anche qua se mai dovessi in futuro trovare questa impostazione ma io l'ho passata e ripassata da ogni parte non ho trovato l'unica cosa possibile fare è disattivare i led quindi il led di funzionamento e il led che indica la presenza dell'infrarosso ma non è possibile agire effettivamente sull'accessione e spegnimento dell'infrarosso la sto tirando troppo lunga come dicevo una buona telecamera un buon sistema un'app che funziona decisamente bene risponde abbastanza bene e velocemente e poi c'è la possibilità volendo anche di aggiungere il software Windows e forse c'è anche qualche altro sistema operativo c'era anche un'altra possibilità l'interfaccia web ma secondo me la stanno un po' abbandonando nel senso che è disponibile soltanto su Internet Explorer con ArtvX eccetera cosa che probabilmente ormai non c'è più nessuno è tutto per questa video recensione noi con la Q2 diciamo che abbiamo finito ma ci vediamo per la recensione della Ranger 2 e lì veramente sarà un prodotto decisamente interessante noi ci vediamo al prossimo video come al solito se vi è piaciuto mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti